Con una bella immagine di Simone Pontieri in arte Nigraz, illustratore fumettista proveniente dalla sezione animazione della Scuola del Libro di Urbino, è stata presentata questa mattina nella Sala della Concordia del Comune di Fano una nuova edizione di Impronte Femminili organizzata dall'assessore a repario opportunità Sara Cucchiarini con l'intento di valorizzare la presenza delle donne nel nostro territorio e di tutelarne i diritti. L'immagine ripropone un sogno, un sogno che sembra liberamente ispirato ad Avatar, una donna in abito ancestrale appena immerso le mani nell'acqua di cui sembra assaporare la freschezza, immersa come si trova in una natura rigogliosa rischiarata dalla luna. Notevole il coinvolgimento dell'iniziativa delle comunità vicine. Hanno contribuito a promuovere l'evento il sindaco di Fano Massimo Seri, la presidente del Consiglio Comunale Carla Cecchetelli, la consigliera regionale Micaela Vitri, il sindaco di Pergola Simona Guidarelli, quelli di Fermignano Emanuele Feduzzi, di Borgo Pace Romina Pierantoni e il vice sindaco di Urbino Mariana Vetri. Questo è un lavoro che noi facciamo sui diritti di genere, diritti in rispetto, un lavoro che si fa tutto l'anno, che inizia con la giornata dell'8 marzo, continua con questa rassegna di impronte femminile che poi andiamo a concludere anche con la giornata della violenza contro le donne, sempre nella cultura del rispetto. Un impegno che portiamo avanti da sei anni, che è cresciuto, che ci ha permesso di stringere amicizie, di creare gruppi di volontari che mi sento di ringraziare sin da adesso, oltre che ringraziare tutti gli ospiti coinvolti. Parliamo di multiculturalismo, parliamo di diverse famiglie, parliamo di tutte quelle attività che servono per diminuire il contrasto delle differenze. Si comincia il 2 domani a Fermignano con un appuntamento dedicato appunto al multiculturalismo, una mostra con la comunità islamica non solo di Fano ma del territorio provinciale. Poi gli appuntamenti sono tanti, sono una trentina, come ci hanno detto avremo modo di approfondire volta per volta, ma quello che mi va di ricordare è il lavoro diversificato, parleremo di identità e salute mentale nelle donne con il coinvolgimento che mi fa tanto piacere di Casa Serena di Bellocchi. Un lavoro molto importante che stiamo facendo sull'identità del luogo di Fano è quello sulla Maria Risorta e sulla marineria fanese, sul ruolo delle donne nella storia della marineria di questa città. Un lavoro che comincerà adesso, una prima stessura di uno spettacolo teatrale, andrà in scena all'interno della festa del mare e poi proseguiremo questo lavoro per portarlo nella prossima primavera al Teatro della Fortuna.